tv zap social scò fabrizio corona 40100 il messaggio inaspettato da parte dell'ex re dei paparazzi molto legato a lui negli anni della sua relazione con la sorella belen un regalo inaspettato quello che è toccato a jeremias rodrigues all'interno della casa del grande fratello vip in una serata non certo esaltante a rischio di eliminazione frenzonato da ida yespica in reality lo convoca in confessionale per una lettera da parte di una persona speciale fabrizio corona non dimenticare mai le priorità gfvppic.twitter.com 0io6lxgwn grande fratello chiocciola grande fratello november 13 2017 l'ex re dei paparazzi ora in carcere a san vittore ha fatto pervenire una lettera a quello che per lui è sempre stato un amico nonché fratello della ex fidanzata belen il ricordi sono la bellezza del mondo e tu sei un ricordo bellissimo di una parte molto intensa della mia mi sembra ieri che ti sono venuto a prendere all'aeroporto di linate con le tue sorelle sei sempre stato uno spirito libero un puro attaccatissimo alla tua famiglia quante volte abbiamo discusso perché quello che ci accomuna è l'istintività ma ci volevamo un gran bene e ci rispettavamo oggi ti seguo da qui da dentro quattro fredde mura questo viaggio ti deve servire a migliorare apporti obiettivi e ad essere d'aiuto e giunta l'ora di crescere non puoi più permetterti di dimenticare le persone che ami siamo con te ti voglio bene lacrime per jeremias che dice che fabrizio è sempre stato una figura di riferimento come uomo ora ha sbagliato e si sta prendendo la responsabilità di queste cose fabrizio corona reality show biancato biancato biancato